Si è ritornato a parlare di pensione di reversibilità semplicemente perché in data 28 gennaio scorso il Governo ha approvato un decreto che si intitola Contrasto alla povertà. E all'interno di questi paletti, di queste linee guida, perché è un disegno di legge delega, il Governo è delegato a rivedere le prestazioni anche di natura previdenziale legate alla prova dei mezzi. Ora, le prestazioni previdenziali legate alla prova dei mezzi sono l'assegno sociale, la pensione sociale, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale, la quattordicesima omissibilità. Sono tante queste prestazioni, ma non quelle di reversibilità. Per cui, se non c'è un disegno sotterraneo del Governo che vuole con questo decreto scardinare l'Istituto delle pensioni di reversibilità, in teoria, da quello che si legge nel disegno di legge delega, non ci dovrebbero essere problemi per le pensioni di reversibilità, perché oggi non sono sottoposte alla prova dei mezzi. Certo, se si dovesse toccare, fare cassa con le pensioni di reversibilità, sarebbe veramente A, un errore clamoroso da parte del Governo, B, sarebbe comunque una manovra che andrebbe contro tutti i canoni, anche perché poi bisognerebbe rimodificare l'intero sistema che in Italia si chiama IVS, in verità, vecchiaia e supestiti. Quindi mi auguro che il Governo non faccia un altro errore in materia di previdenza. Allora, dobbiamo dire che, e questo appare chiaro dal rapporto che noi presenteremo tra qualche giorno al Governo, che il sistema pensionistico puro nel suo complesso è in equilibrio, quindi significa che le riforme del sistema previdenziale hanno dato i loro frutti. Quindi le entrate contributive coprono le spese per prestazione. Il problema sta sulla assistenza. L'assistenza ha un costo elevato, supera i 100 miliardi, grava sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche di tutti noi, è fuori controllo come spesa e oggi incide per quasi il 70% sulla spesa pensionistica pura. Quindi sicuramente bisogna fare qualche cosa, non tanto per il contrasto alla povertà in quanto tale, come dice il Governo, dobbiamo dare e non prendere. No, bisogna stare attenti che se il Paese deve svilupparsi, deve pensare ai giovani, deve razionalizzare questa spesa. Quindi il senso di questo decreto c'è se c'è una razionalizzazione della spesa, una riduzione degli istituti assistenziali mirati alle persone che davvero ne hanno bisogno e soprattutto una revisione della contabilità dello Stato, perché oggi le spese per assistenza che fa un ente locale, un comune, una provincia, una comunità montana non vanno nel conto della pubblica amministrazione. Noi abbiamo stimato 9 miliardi, ma probabilmente sono molti di più. E la stessa cosa la casa. Quindi se si rivede la macchina, si fa un restyling di tutte le prestazioni e si dà quindi ai veramente bisognosi, è un conto. Se noi oggi in Italia abbiamo su 16 milioni di pensionati il 50% che sono assistiti, c'è qualcosa che non va, perché il nostro Paese non è un Paese del terzo mondo dove la metà dei lavoratori non ha lavorato. Quindi occorre rivedere in toto questo meccanismo.